Lei è bianca, l'amica che ti dicevo. Lei è felice e lei è certa. Che scuola ha fatto? L'elementare. Un po' che sì, un po' che no. Vabbò, lei è molto meglio i tanti chicano usci. Sai scrivere? Sì, lo so fare. Hai mai provato a datelografare. O scrivi con la macchina? Ah, no. Vabbè, guarda che se tu ti impari a datelografare può essere che trovi una fatica, come segretaria. Non è che ci sono tanti film che non hanno sa conoscenza. Bianca staci preparando uno corso. E se vuoi, se ti facci piacere, lo puoi fare. Per datelografare serve concentrazione e capacità di fare più cose allo stesso tempo. Pensi di avere queste qualità? Penso che sì. Vabbè, allora cominciamo subito. Ogni sera tu ti metti a scrivere. Qualsiasi cosa ti passa per la testa. Subbano pezzi di carta. Ciao ad una Lorenzo. E io il giorno dopo te la faccio riavere corretta. Mi raccomando, riprenda a scrivere. E poi vediamo se ti troviamo una macchina. Si trova. Si trova. Ti ringrazio e stai. Hai da ringraziare all'amico tuo. No, mia no. No. S movimento sia 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 e sia. Sinaryzza di accumulate kale in qualche momento.